Musica jazz graffiante per accarezzare l'anima, suggestive gradazioni di colore per attirare gli sguardi, drink freschi e rigeneranti per risvegliare i sopite papille gustative. Tutti i sensi coinvolti nell'incantevole notte bianca del villaggio turistico Riva del Sole che apre così la propria stagione turistica. Una presenza preziosa alla sua alle porte di Giovinazzo una notte dal sapore estivo per ritornare ad assaporare la bella stagione ormai alle porte. Un villaggio turistico Riva del Sole a Giovinazzo che sfidando la crisi economica che stringe l'Italia di anno in anno si sa reinventare. Declinare così la bella stagione ripercorrendo gli elementi che la rendono memorabile durante il freddo inverno. La presenza rilassante del mare, il momento di convivialità tra amici, le incantevoli melodie rigorosamente dal vivo. Una notte bianca a Giovinazzo voluta e ideata da Carmine De Gennaro. Un appuntamento capace di richiamare l'attenzione di tante famiglie e di numerosi giovani. Presenze che non si sono fatte certo spaventare dal clima ballerino di questa pazza primavera 2013. Un'idea alla notte bianca che sposa la voglia di essere imprenditori sempre nuovi e versatili che riescano ad offrire prodotti vincenti. Aprire così una nuova stagione a Riva del Sole portando a frutto la lunga esperienza adattata però alle nuove esigenze per il tramite di innovative proposte e differenti pacchetti. Una notte bianca a Riva del Sole dal sapore tipicamente estivo.